Bentornati su MyFootballGersey! Oggi vi mostro questa bellissima maglia dei Golden State Warriors, una maglia retro che ricorda i colori del passato. Questa maglia dei Golden State Warriors è prevalentemente blu, con splendide bordature gialle e rosse. La canotta presenta scollo e giromaniche a costine, stampa del nome della squadra e numero 30 sul davanti. Nome e numero del giocatore sulla parte posteriore. Il numero 30 è quello di uno dei giocatori più conosciuti e forti dell'NBA, un vero e proprio specialista dei tiri a tre, Stephen Curry. Il modello è realizzato in mesh a doppia maglia e grazie alla tecnologia DryFit la pelle resta fresca e asciutta. Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%. Questa maglia è favolosa, di quelle che ho visto dell'NBA, una delle più belle. Nella mia classifica prende 5 stelle. Ottima qualità, veramente con dei colori bellissimi. Qui in alto ho trovato il costo, che per questa maglia con dei tempi di spedizione così veloci, questa arrivata in 15 giorni, è bassissimo. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere perché troverete anche un link per un coupon da 3 dollari che potete utilizzare sul sito per comprare quello che volete. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Nel frattempo lasciateci un grosso like e iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media.